Numero 5. Questo anemometro Trotec è un prodotto dalle prestazioni impeccabili nella sua categoria. Grazie alla sonda flessibile di 40 cm, permette di misurare la velocità del vento in modo facile e preciso. Inoltre, visualizza i valori massimi e minimi per una migliore valutazione delle condizioni del vento. Con una scheda tecnica completa, il Trotec offre una gamma di velocità di misurazione da 1 a 30 metri al secondo, unitamente al volume dell'aria e alla temperatura. Se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto, clicca il link in descrizione. Numero 4. Skywatch Ilunga DC Meteos è un anemometro di altissima qualità, progettato con cura in Svizzera per garantire prestazioni eccezionali. Impermeabile e galleggiante, è l'ideale per gli appassionati di meteorologia che vogliono avere sempre sotto controllo le condizioni del vento. Con il foro per treppiede, è possibile fissarlo in modo sicuro su treppiedi o altri supporti per una misurazione più accurata. Tuttavia, il suo prezzo elevato potrebbe essere un deterrente per alcuni acquirenti. Trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video. Numero 3. Proster TL17 è un anemometro che non passa inosservato grazie alla sua combinazione di funzionalità e resistenza. Progettato appositamente per gli sport d'acqua, è dotato di una protezione in gomma che lo rende resistente agli schizzi e agli urti. Inoltre, grazie al cordoncino incluso, può essere comodamente appeso al collo per una maggiore praticità d'uso. Con una gamma di misurazione da 0 a 30 metri al secondo e la possibilità di rilevare anche la temperatura, questo anemometro offre un'accurata lettura dei dati. Inoltre, con la funzione di autospegnimento, non è necessario preoccuparsi di esaurire le batterie. Il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso il link in descrizione. Numero 2. NKTEC NKW0 è un anemometro avanzato che offre molte opzioni di misurazione aggiuntive per soddisfare le esigenze più specifiche. Grazie alle sue funzioni di massimo, minimo e media, è possibile ottenere una visione completa delle condizioni atmosferiche. Inoltre, la sua forma tascabile lo rende comodo da utilizzare in qualsiasi situazione. La scheda tecnica rivela un ampio range di velocità misurato fino a 30 metri al secondo, insieme ad altri dati importanti come temperatura, umidità e pressione atmosferica. Tra le funzioni aggiuntive troviamo l'autospegnimento per risparmiare batteria, la possibilità di tenere i dati in memoria, il valore massimo e minimo e la media dei valori. In descrizione trovi il link di questo prodotto. Numero 1. Proster TL90 è l'anemometro perfetto per gli amanti degli sport d'acqua. Grazie al suo cordoncino incluso, è facile da tenere in mano e utilizzare mentre si è in movimento. La sua scheda tecnica impressiona con un range di velocità misurato fino a 30 metri al secondo e altri dati rilevati come temperatura e temperatura percepita. Ma non è tutto, offre anche diverse funzioni aggiuntive come spegnimento automatico, old data, massimo, minimo e media valori per avere sempre sotto controllo le condizioni del vento. Il display LCD e le 5 unità di misura rendono questo anemometro facile da leggere e utilizzare. In basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto. Grazie.